Quando facevi i colpi belli, come era la tua postura, se ti sei letto nel pensiero, se ti sei conosciuto. Mi sono sforzato di fare quello che avevi detto e forse la troppa concentrazione sulle prime nove mi ha fatto pensare troppo e ho sbagliato qualche colpo di troppo sulle prime nove. Invece le seconde nove ho cancellato dalla mente tutti i cattivi pensieri e sto girando sotto nelle seconde nove perché le ho giocate bene, ma è sotto al mio livello. Com'è andata la giornata? La giornata perfetta ovviamente, quando si è su un campo da golf e ci si va per divertirsi con gli amici va sempre bene. Finché si è su un campo da golf va sempre bene. Ok, grazie mille. Ciao. Ciao.